di nuovo insieme per continuare a vedere quali sono le principali notizie di oggi abbiamo visto sui quotidiani si parla in prevalenza di quello che è il corso delle riforme così come della politica soprattutto di legge elettorale ma anche di cronaca giudiziaria quella che riguarda il processo di napoli con gli sviluppi il processo che vedeva protagonista lo scrittore saviano insieme ad altri e poi un altro processo ancora che ha occupato le prime pagine di tutti i quotidiani ed è quello che riguarda la città dell'aquila andiamo quindi adesso sul web a vedere che cosa è accaduto nelle ultime ore a vedere se ci sono nuovi sviluppi sulle notizie che abbiamo appena accennato in primo piano sul sito dell'ANSA ritroviamo ancora una volta Bruxelles con un ennesimo allarme lanciato in certi risultati dell'Italia su riforme spending attentati a colli di bottiglia istituzionali scusate attenti ai colli di bottiglia istituzionali la commissione dell'unione europea nel rapporto sugli squilibri macroeconomici italiani ha dichiarato i progressi dei prossimi mesi nelle riforme sono cruciali quindi a quanto sembra i nodi stanno venendo al pettine e le nostre sorti si decideranno nei prossimi mesi progressi dei prossimi mesi nelle riforme per valutare se l'Italia sta facendo il suo dovere per affrontare gli squilibri sono cruciali ma Bruxelles mette in guardia da colli di bottiglie istituzionali e barriere nell'attuazione che rimanderebbero i benefici così la commissione nel rapporto sugli squilibri sulle riforme lo slancio è aumentato ma i progressi sono disomogenei molte ancora aspettano la piena sovra approvazione scusate o i decreti attuativi e quindi i risultati restano incerti e incertezza significativa pesa anche sulla spending review il piano di privatizzazione italiano sta subendo ritardi nell'attuazione oltre all'annuncio del piano di 0,7 per cento del pil all'anno nel 2014 2017 confermato dall'aggiornamento del DEF quindi ci mette ancora una volta in guardia Bruxelles per quanto riguarda il da farsi nel nostro paese lo abbiamo già visto in mattinata è di nuovo allarme maltempo e appunto si tiene ancora alta l'attenzione in Liguria dove arriva l'esercito servono 200 milioni questo quanto dichiarato da Burlando si cercano ancora due dispersi una frana c'è stata anche a Genova è ancora emergenza maltempo in Liguria ha prorogato fino alle 15 di domani lo stato di allerta 2 la protezione civile nazionale è arrivata anche nelle zone del Tiguglio colpite dall'alluvione in particolare a Chiavari dalle prime ore dell'alba l'esercito è in arrivo servono subito i soldi 150 200 milioni altrimenti questa regione non la ritiriamo su lo ha detto a Lanza il presidente della Liguria Claudio Burlando dopo una serie di sopralluoghi nelle zone alluionate intanto prosegue senza sosta la ricerca dei due coniugi appunto di 73 e 69 anni dispersi la cui abitazione è stata travolta da un'importante frana caduta durante la notte tra Leivi e Carasco in Valla Fontana Buona oltre ai cani della protezione civile hanno cercato senza risultato anche i cani dei carabinieri non è escluso che i corpi dei due anziani siano stati trascinati a valle e con tutta probabilità finiti nel fiume Lavagna in piena da stanotte tutto è iniziato ieri sera poco dopo le 22 quando un violento nubifragio si è abbattuto su Chiavari alle 22.30 del torrente Entella lo Sturla e il rio Rupinario esondano quasi in contemporanea a Carasco e Chiavari si verificano in tutto il territorio una delle ultime ha colpito una palazzina a Genova Pra in via Vellini Negrone 18 23 famiglie sono state evacuate per precauzione tra le circa 60 persone allontanate ci sono anche disabili e bambini non si registrano feriti sul posto inoltre squadra di vigili del fuoco e della protezione civile questa al momento la situazione per quanto riguarda Genova e più ampiamente la Liguria tralasciando un attimo lasciando un attimo da parte l'allarme maltempo parliamo nuovamente di politica c'è Forza Italia e il partito democratico in primo piano il duello è sulla legge elettorale c'è attenzione alla vigilia dell'incontro Renzi Berlusconi Brunetta dichiara se cambia cade il patto del Nazareno e poi Lotti ancora inutile incontro di domani e in ultimo Alfano che tende la mano al Cavaliere fermi il rancore siamo pronti a ricostruire il centro-destra quindi in attesa di questo incontro sono tante le voci che si fanno sentire c'è anche a livello di politica Galletti con la sua dichiarazione ora basta con i condoni sono tentato omicidio alla Camera agli Stati Generali contro il dissesto idrogeologico ci sono anche le parole di Gabrielli che ha raccomandato bisogna far crescere la cultura di protezione civile intanto Galletti ha dichiarato in questo paese non ci saranno mai più condoni edilizi perché sono dei tentati omicidi alla tutela del territorio nel corso di questi Stati Generali è stata proprio questa la dichiarazione più forte del ministro Galletti in un paese che deve fare conti con il dissesto idrogeologico non a caso queste dichiarazioni arrivano proprio dopo quanto accaduto a Genova e le continue alluvioni è necessario far crescere una vera cultura di protezione civile a dirlo il capo del Dipartimento della stessa Franco Gabrielli a margine degli Stati Generali contro il dissesto idrogeologico che si tiene a Palazzo Chigi il governo è pronto a mettere a disposizione 7 miliardi in 7 anni per un piano di prevenzione per la tutela del territorio lo ha annunciato sempre il ministro dell'ambiente Galletti agli Stati Generali e sottolineando che 5 miliardi arriveranno dai fondi strutturali europei e 2 miliardi dal cofinanziamento delle regioni nei primi mesi del prossimo anno inoltre partiranno 659 cantieri per un totale di spesa di 1,96 miliardi quindi stati generali sul dissesto idrogeologico e condizioni che continuano ad essere avverse per quanto riguarda Genova già fortemente colpita dall'alluvione e tutta la Liguria ma c'è l'allarme maltempo anche per la nostra regione e lo vedremo tra poco intanto continuiamo la lettura delle principali notizie sul sito Anza e la riforma del catastro l'abbiamo ampiamente vista sui quotidiani e c'è la dichiarazione di Saviano a seguito della sentenza che lo scrittore ha definito come una vittoria a metà è una vergogna che si possa solo pensare che esiste un avvocato di Camorra che agisce senza chiedere indicazioni ai propri clienti ma dove si è visto che un avvocato non concordi la sua strategia difensiva con l'imputato o se lo rappresenta con la parte offesa se questo è possibile allora vuol dire che la Camorra non esiste mi chiedo quanti sono stati gli avvocati di Camorra, di Cosa Nostra, di Indrangheta uccisi solo perché non hanno obbedito ai desiderata dei clienti intervistato da Stampe Repubblica lo scrittore Roberto Saviano parla proprio in questo modo parla di questa vittoria a metà ponendosi e ponendoci anche questi interrogativi che rimangono senza risposta perché una risposta l'hanno già implicita e non c'è bisogno di esprimerla ulteriormente l'assoluzione di due capi mafia di quel calibro lascia troppi interrogativi aperti un avvocato considerato al servizio del clan e da oggi condannato come Santo Nastaso a nome di chi avrebbe lanciato quelle minacce di natura mafiosa se i due padrini non sono prosciolti ancora un interrogativo posto da Saviano raccontare queste storie ha fatto esplodere l'attenzione mondiale verso questi fenomeni certo conosciuti e già raccontati e ora la mia paura è esattamente il contrario che si dica ok tutto è risolto archiviato invece i problemi restano enormi il loro potere continua a essere forte in aula per esempio quelli che dovevano essere protetti sembravamo noi e i vincenti erano loro in qualche modo mi è bastato vedere il boss Bidognetti collegato in videoconferenza loro pensano di essere ancora il potere lo scrittore Roberto Saviano si è recato questa mattina in visita al nuovo teatro sanità nell'omonimo quartiere di Napoli dove ha incontrato Roberto Gelardi direttore artistico della struttura e regista della versione teatrale del suo libro secondo quanto riferiscono dal teatro Saviano è arrivato dopo le 8 all'indomani della sentenza del processo per le minacce rivolte a lui alla giornalista Rosaria Capacchione condannato l'avvocato lo riepiloghiamo questa è la notizia oltre ai commenti dello scrittore condannato appunto l'avvocato Santo Anastaso ma ha assolti i boss Bidognetti e Iomini lo scrittore si è concesso ad un selfie con i ragazzi presenti ha mantenuto spiega a Gelardi la promessa come si fa tra amici veri quando venga a Napoli voglio venire a vedere il tuo teatro e a conoscere i tuoi ragazzi e così ha fatto questa mattina Roberto Saviano si è recato presso il teatro del quartiere Sanità l'impressione ha detto visitando questo teatro è che questo sia un luogo prezioso il pavimento dell'Ottocento i marmi quello che voi fate qui dentro quindi questa la giornata di oggi a seguito della sentenza che c'è stata ieri e che ha assolto i due boss condannando soltanto l'avvocato dei boss stessi e tanti abbiamo visto sono gli interrogativi che Saviano si è posto apposto al nostro paese interrogativi che la dicono lunga su quella che è la reale situazione ci fermiamo ancora un istante poi torniamo con altre notizie dalla capitale e dai comuni della provincia restate con noi grazie a tutti grazie a tutti